benvenuti benvenuti cari amici siamo ubi di questo nuovo video oggi abbiamo parli di shiba inu perché abbiamo ancora grandissime notizie e soprattutto ieri shiba inu una giornata ha fatto il più 40 per cento per cui andiamo a vedere quella che la situazione al momento torniamo ok sopra i mille importantissimo da un punto di vista psicologico in settimana un più 26 per cento capitalizzazione mercato di 5.6 miliardi per cui ci stiamo riavvicinando nei confronti dogecoin che dista circa 3 miliardi in aggiunta che cosa possiamo vedere i volumi sono sensibilmente aumentati più 208 per cento nella giornata ieri addirittura abbiamo raggiunto i 2 miliardi di volumi quindi questo vuol dire che tantissime whale stanno andando ad acquistare shiba inu quindi shib nonostante siamo in un pieno bear market nelle ultime 24 ore ha fatto un qualcosa di pazzesco e tra l'altro sta guidando quella che è tra virgolette un alco in season almeno quello che abbiamo visto giornate ieri è risultata essere un alco in season perché perché se noi andiamo a vedere l'alco index sull'annuale guardate che bel skyrocket abbiamo fatto quindi attenzione perché se andiamo a passare ok 39 sul alco index potremmo potremmo che potremmo riavere un alco in year quindi attenzione anche durante il bear market si può avere un alco in season che naturalmente io vi ricordo implica che le alco in vanno a performare bitcoin quindi non significa ok che magari ci guadagnate contro euro dollaro però ci andate a guadagnare contro bitcoin ora torniamo nei confronti shiba inu perché come noi sappiamo come abbiamo visto anche nel video di ieri vi ricordo andatelo a vedere se lo avete perso il masch sta sostenendo dogecoin ok ma implicitamente sta sostenendo anche shiba inu ora andiamo a sicuro che il prezzo di shiba in questo momento siamo a 1.034 quindi sostanzialmente stiamo tenendo ok supporto i mille e qui le cose si fanno davvero interessante dal mio punto di vista perché perché su shiba sarà capace di tenere i mille e più in concomitanza avremo anche ma rinnovamento un skyrocket di bitcoin attenzione perché potremmo andare presto a passare i 1.200 raggiunti nella giornata ieri quindi prima resistenza che abbiamo sono i 1.200 shiba potrebbe lateralizzare all'interno dell'area a 1.000 bar a 1.200 se verranno passati i 1.200 attenzione perché il prossimo target potrebbe essere addirittura i 2.300 per cui shiba inu sta diventando fortemente interessante anche perché sembra ok che shito shikusama abbia un qualcosa ok di speciale per noi giornate ieri sono stati bruciati 216 milioni ok di shiba inu per cui sta continuando il barn ma soprattutto anche amazon ok sta andando a bruciare shiba inu in particolare 2.2 miliardi per un controvalore di circa 55 mila dollari per cui non male quello che sta avvenendo questo che lo store che sta bruciando attualmente shiba inu solamente se voi cliccate qui su twitter potete andare all'interno dello store acquistare alcuni prodotti shiba inu e l'acquisto implica anche un barn di shib ma soprattutto ora vorrei focalizzarmi la vostra attenzione su questo elemento all'interno di shiba barn perché è stato abbassato ok l'api per quanto riguarda la possibilità ok di bruciare i shib quindi se voi collegate al vostro wallet riceverete solo il 3.35 per cento annuale quindi questo che cosa indica e vorrei ricordarvelo in passato quando si arrivò che a questi livelli circa il 3 per cento barra 2 per cento di api successivamente shiba inu fece skyrockets quindi quando si abbassa l'api tendenzialmente ok è una buona cosa vuol dire che la piattaforma dice ok il prezzo sta scendendo per sostenere la crescita dobbiamo abbassare l'api totale ok di shiba inu bruciati per il momento sono 55 miliardi per cui stiamo crescendo e anche binance ok è andato ad abbassare l'api più in particolare sui 10 giorni vi danno il 10.12 per cento poi sui 120 giorni anche il 12 per cento per un intervallo tra i 30 e i 60 e i 90 circa dell'1 per cento quindi che cosa ci dice questo che potenzialmente bullish scusate che potenzialmente shiba inu da qua a tre mesi potrebbe essere fortemente bullish in aggiunta andiamo a vedere anche questo tweet da parte di shito shikusama perché lui sta andando a sostenere shiba inu in particolare shibarmi e lui dice il bello deve sostanzialmente ancora arrivare e proprio le balene ok stanno sostanzialmente manipolando quello che prezzo di shiba inu più in particolare possiamo vedere come c'è stato un consistente aumento di ethereum scambiati per shibarmi nelle ultime 24 ore e se vediamo quelle che sono le balene ok di ethereum possiamo vedere che circa il 18 per cento ok l'hanno convertito in west dc quindi questa stable coin 12 per cento in west dtt e addirittura il 13.9 per cento in shiba inu quindi shiba è la principale coin delle balene di ethereum e questo ok è una cosa secondo me particolare interessante assolutamente da sapere ora andiamo a darci questo ultimo ok articolo che riguarda lo shibarium naturalmente noi tutti sappiamo come quando arriverà lo shibarium io sono fortemente convinto di questo secondo me shiba inu farà davvero skyrockets naturalmente questo comporterà anche un cambio di genetica all'interno al suo block chain quindi passeremo da ethereum a shibarium naturalmente questo avrà che i costi o che delle fees diventeranno fortemente inferiori e shibarium vi ricordo favorirà ulteriormente ancora il bar di shiba inu per cui attenzione perché addirittura già partire se me lo clicca esatto quindi già a partire da fine giugno potrebbe arrivare shibarium secondo me non arriverà ok nell'immediato questa è sostanzialmente la mia idea ci vorrà un po' di tempo abbiamo visto anche su cardano il vasil lo hanno rinviato l'aggiornamento secondo me anche su ethereum il marge verrà rinviato e lo stesso avrà su shiba inu secondo me sono tempi troppo corti e soprattutto all'interno di questo bear market secondo me non è conveniente dare una notizia di questo tipo infine vorrei andare a chiudere ok se volete sostenere il canale iscrivetevi a street beat vi lascio sotto il link in descrizione naturalmente l'iscrizione è gratuita ok quindi non dovete assolutamente versare alcun soldo in cambio entrambi riceveremo un bonus da 3 fino a 3000 dollari non so se l'avete sentito ma questo è shiba inu che anche lui si è iscritto a street beat e per cui se ti è piaciuto questo video ti ricordo di suggerire il like iscrivetevi al canale e ci vediamo presto naturalmente vi ricordo anche i servizi che offro io se volete una lezione individuale di 30 minuti il costo è di 25 euro e in più potete abbonarvi sia al gruppo elite se volete con un costo di 50 euro e al gruppo premium al costo di 24 euro per cui vi ricordo di suggerire il like iscrivetevi al canale e ci vediamo presto grazie